Su Giovanni è quello che mi ha fatto molto bene per le sue qualità, le sue caratteristiche, la sua voglia di fare e la sua crescita che sarà sicuramente una crescita importante. Mi aspetto molto a Giovanni perché ha fatto molto bene nei primi anni d'Italia, adesso conosce bene tutto, ha acquisito più consapevolezza, ha acquisito più capacità di movimento, quindi chiaro che abbiamo puntato molto su di loro, ma credo che sia ragazzi giovani sia a Teorò possa fare molto bene il centroavanti, in reale. Ho tanti giocatori offensivi e non credo che sia sempre dispensabile giocare con una prima punta e quindi dopo essere bravo a sedere bene, abbiamo tante carte da poterci giocare. Sono contento che Biaz, Makko e Ernest e Onela stanno lavorando molto bene, mi piace molto dove voglio lavorare o voglio mettersi al pari dei suoi compagni e credo che questi saranno veramente pronti da giocare.